Si terrà dal 4 all'8 novembre a Palazzo Pirelli la settimana europea dei consigli regionali italiani. Il ricco programma di appuntamenti è stato illustrato in una conferenza stampa dal presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo. Si partirà lunedì pomeriggio con un seminario sull'immigrazione e l'integrazione. La mattina di martedì si terrà un consiglio regionale ad hoc per votare un'importante risoluzione su tematiche europee. Nel pomeriggio di giovedì si riunirà invece l'assemblea plenaria della conferenza dei presidenti dei consigli regionali italiani dedicata alla preparazione dei lavori di venerdì, evento finale della settimana. La mattina dell'8 è infatti prevista l'assise sul ruolo delle assemblee legislative regionali in Europa al termine della quale sarà elaborato un documento comune.